Un anomalo giardiniere, un barese di 47 anni, aveva avviato una fiorente produzione di marijuana nella propria abitazione. I finanzieri del gruppo Pronto Impiego di Bari infatti hanno rinvenuto in una stanza di oltre 20 metri quadri in un appartamento del centro di Bari una vera e propria serra adibita alla coltivazione delle piante di sostanze stupefacenti. Un potente impianto di illuminazione alogene, circa 40 piante alte circa 2 metri e pronte per essere private delle preziose foglie. La marijuana, già raccolta circa 150 grammi, era confezionata in sacchetti di plastica. Nella casa, inoltre, sono state rinvenute decine di ovuli contenenti ashish del peso complessivo di circa 500 grammi. Il 47enne, già con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato tratto in arresto in flagranza di reato, mentre tutta l'attrezzatura presente è stata sottoposta a sequestro. In un secondo appartamento, questa volta nel quartiere San Pasquale a Bari, sempre i finanzieri hanno individuato un appartamento occupato da un barese che lo aveva adibito ad un vero e proprio supermarket della droga. Al suo interno è stato rinvenuto un bilancino di precisione, centinaia di sacchetti di plastica utilizzati per preparare e vendere dosi di stupefacente, nonché 104 grammi di cocaina, 350 grammi di marijuana e 6 ovuli contenenti 60 grammi di ashish, il tutto sottoposto a sequestro. L'utilizzatore dell'appartamento, un soggetto barese incensurato di anni 24, è stato tratto in arresto e sono attualmente in corso ulteriori approfondimenti investigativi al fine di individuare eventuali altri complici del ragazzo e fare luce sulla provenienza dello stupefacente.